Prima sono stati sorpresi in a uno con un chilo di hashish, poi altrettanta sostanza stupefacente è stata trovata all'interno di un appartamento di Cigiano Piccolo Borgo della Valdichiana, a Retina. Oggigiorno sicuramente non c'è da stupire niente perché da tutte le parti avvengono, sicché noi non siamo immuni da altre cose. La polizia stradale di Arezzo ha così arrestato due uomini, entrambi ultra 50 anni, residenti a Cigiano, uno tedesco e l'altro valdarnese. Non mi hanno dato mai nell'occhio, mai, mai. Molto gentili, molto cordiali. I due sono stati fermati ieri mattina lungo il tratto a Retino dell'autostrada del Sole, mentre viaggiavano verso Firenze. A notare l'auto, una Golf con targa tedesca, una pattuglia della sottosezione di Battifolle. I due erano entrati ad Arezzo ad insospettire ai poliziotti le motivazioni del viaggio fornite dai due fermati, uno dei quali con precedenti per spaccio. Gli agenti hanno così deciso di approfondire i controlli e perquisire il veicolo. I sospetti sono poi risultati ben fondati da uno zainetto e saltato fuori, infatti, un chilo di hashish e 5.000 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. A quel punto è scattata anche la perquisizione domiciliare a Cigiano. Lì gli agenti hanno trovato altri 800 grammi di hashish, oltre ad alcune dosi di marijuana ed un bilancino di precisione. Magari così a vederle sembrano anche persone oneste, però non si può sapere più chi abbiamo in casa. I due, inoltre, nell'abitazione avevano lasciato di guardia un cane che i poliziotti, per non lasciar solo, hanno portato al canile. La postrada, infine, ha anche sequestrato il denaro, la golf e tutta la sostanza stupefacente che avrebbe potuto fruttare i due circa 5.000 euro.